Sono Claudia Cattani, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Rete Ferroviaria Italiana. Il premio Belisario è un grande riconoscimento alla professionalità, alla tenacia e anche alla voglia di trasmettere esperienze positive alle giovani donne. In effetti io sono stata nominata dirigente nel 1987, erano pochissime le donne dirigenti in Italia. In questi 30 anni e oltre ho toccato con mano quanto le donne siano evolute nelle professioni e nelle carriere aziendali, perché ovviamente sono molto molto più numerose e questo ha portato anche un cambiamento nel modo di concepire la managerialità, che credo che sia un'evoluzione a prescindere dalla presenza delle donne, un'evoluzione che ha visto la managerialità passare da un più un concetto di comando, impartire gli ordini, a una leadership che personalmente individuo in una forte capacità di condivisione, di coinvolgimento nei confronti del proprio team. Quindi credo che le donne abbiano un'attitudine particolare al coinvolgimento, all'inclusione, alla spiegazione e quindi a essere un buon leader, perché un buon leader oggi si identifica quando sono presenti tutti questi soft skills che permettono di raggiungere questi obiettivi. Credo purtroppo che servano degli interventi di tipo legislativo. Come è accaduto con la normativa sulle quote di genere per i consigli di amministrazione, che hanno portato in pochi anni la presenza delle donne di consigli di amministrazione da un misero 3% ad un 30%, che arriverà anche al 40% nei prossimi anni, io credo che si debba arrivare ad un meccanismo di quote, quantomeno teorico. Questo non vuol dire che debbano essere cooptate donne che non hanno le competenze per quel determinato ruolo. Vuol dire però che se noi formiamo un gruppo dove la presenza femminile è minima o comunque non al 50%, stiamo ancora lontani da un obiettivo di ottimizzazione. Questo tipo di coscienza e di cultura, secondo me, porterebbe in poco tempo a sicuramente minimizzare il problema se non addirittura risolverlo. Ancora una volta credo che le donne, per le loro insite caratteristiche, siano abbastanza idonee al post-covid. Cosa mi riferisco? Ci sono stati studi in questo periodo che hanno evidenziato come il manager post-covid debba essere più attento all'individuo, ai bisogni dei propri dipendenti, i propri ambienti di lavoro. Dall'altro c'è la necessità di cogliere nel mercato nuovi trend, nuove occasioni appunto per il post-covid che sicuramente porterà dei cambiamenti significativi. E secondo me anche da questo punto di vista le donne possono dare il loro contributo per visione, per capacità di innovazione che hanno dimostrato negli anni in molti campi.